Siamo a Bagliardo, nell'entroterra Ligure, a pochi chilometri dal confine francese. Siamo il paese nel mondo con la più alta percentuale di arte, di storia. Ce l'abbiamo sotto i piedi, ce l'abbiamo ai fianchi. Possiamo fare lezioni all'aperto, le possiamo fare persino a Bagliardo. Qui alle mie spalle c'è un campanile del tempo delle crociate. Perché ci sono state le crociate? Chi combatteva contro chi? Gente che abitava qui era informata di quello che stava avvenendo in Europa, nel Medio Oriente, Saladino, Riccardo Cuor di Leone. Potremmo partire e fare storia in questo piazzale, oggi disabitato. Ma se mi seguite, troveremo tanti altri spunti su cui riflettere. Cioè, oggetti particolari che possono suscitare interesse, proprio perché li tocchiamo, li osserviamo. E quindi stimoli sensoriali che, detto tra noi, vanno a fissarsi nella memoria a lungo termine. E che le insegnanti della primaria, delle medie, della secondaria, di secondo grado, possono utilizzare per fare partecipi i giovani. Che siano bambini, che siano adolescenti. Seguitemi. Che cosa ci fanno capitelli con simboli pagani in una chiesa cristiana? Evidentemente, i ricordi, i miti dei secoli precedenti riportavano questi simboli, come il sole, come questo faccione che esprime fecondità con i rami che escono dalla sua bocca. Vogliamo giocare a fare i barbari e a fare i romani? Capisco benissimo che la normativa scolastica e le abitudini ci impediscono di trasformare le lezioni, gli orari, la campanella, la posizione dei banchi. Ma se non introduciamo noi oggi il cambiamento, quando lo introdurremo e chi lo farà e saremo ancora in tempo, tutto questo a chi andrà a vantaggio o a svantaggio? Se crediamo nei giovani, lo dobbiamo fare con loro, per loro e anche per il nostro futuro. Questo fenomeno deve avvenire in Italia come già sta avvenendo in tanti altri paesi, paesi asiatici e paesi dell'Occidente. Tiriamoci sulle maniche, finiremo col divertirci anche noi quotidianamente e sicuramente meriteremo più rispetto, più simpatia da parte di tanti genitori. Genitori, docenti, scrivetemi. Mi farà tanto piacere sentire le vostre opinioni perché penso che l'unione faccia la forza. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.